Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo a Milano negli uffici di Digital Bros per parlare di Digital Bros Game Academy. Abbiamo già passato il comunicato stampa qualche giorno fa, si tratta dell'organizzazione di nuovi corsi di studio dedicati specificamente allo sviluppo dei videogiochi e siamo qua con Jeff Davis, ossia il responsabile del progetto. Ciao Jeff, vorrei innanzitutto chiederti, prima di tutto, qual è la tua visione, oggi come oggi, a livello accademico dell'insegnamento dei videogiochi in Italia, questo prima di Digital Bros Game Academy. Un tuo parere su qual è la situazione in Italia oggi? La situazione, grazie anche a questo che l'industria sta, diciamo, il settore in Italia sta crescendo leggermente, è buona, è buona in termini di offerte, in termini anche di, diciamo, la localizzazione delle offerte, perché si vedono che ci sono in diverse parti dell'Italia, ci stanno nascendo diversi progetti, diverse iniziative per la formazione o lo sviluppo all'interno, diciamo, del videogame. Questo, secondo me, contribuisce a quello che serve in Italia in questo momento di rafforzare, arricchire il livello, diciamo, di competenza e i talenti che noi abbiamo nel paese. Puoi descriverci un po' più nel dettaglio i tre corsi, se non sbaglio sono tre, che andranno a formare la Game Academy? Quali saranno le materie trattate e anche un po' le modalità in cui verranno trattate? Certo. Allora, sono, giustamente, come dicevi, sono tre corsi. C'è il corso di Game Developer, Game Designer e Artist and Animator 2D e 3D. I corsi sono molto tecnici, sono molto focalizzati e molto tecnici. Il motivo per questo è che, siccome cerchiamo di aiutare i ragazzi a sviluppare le competenze per entrare nel mercato del lavoro, crediamo che il focus e la parte tecnica siano i due elementi che aiuteranno loro a diventare i nuovi talenti di domani. Quindi, i corsi subito dopo, delle esercizi pratici. La struttura di ogni corso è simile, nel senso che c'è la parte di insegnamento del concetto dell'estrumento, l'attività pratica. Ci sono anche delle verifiche di comprensione per aiutare sia lo studente, ma anche il docente a capire i progressi, aiutare e dare maggiore assistenza magari in determinate aree. All'interno dei corsi c'è anche la possibilità per ogni ragazzo o ogni ragazza di sviluppare i progetti di portafoglio, quello che a me piace chiamare, diciamo, the employer portfolio, cioè il portafoglio che ti aiuta nel momento in cui ti affacci sul mondo del lavoro. Per far vedere i tuoi skill, per far vedere qual è, diciamo, la parte in cui eccelli. Quindi, magari se hai fatto il corso di Artisan Animator, magari si vede che la parte forte sono i personaggi, piuttosto che gli ambienti. Per ogni caso, è un modo tangibile e pratico per mostrare ad un'altra persona la tua eccellenza. Prevedete dei test d'ingresso per entrare nella Digital Bros Game Academy oppure sarà ad accesso libero. Allora, noi abbiamo un iter piuttosto classico di, diciamo, di iscrizione che si compone ovviamente nel modo online che si trova sul nostro sito, una lettera motivazionale che ci racconta perché vuoi fare il corso e poi tutti gli altri documenti, diciamo, formali che chiediamo. Ci sarà poi un colloquio conoscitivo e noi ci riserviamo anche la possibilità di chiedere alla persona di fare un test. Ma il test verrà attraverso il colloquio. Quindi non ci sarà un test scritto. Il nostro obiettivo è che tutti i ragazzi che entrano nell'Academy completino il corso con successo. Quindi vogliamo assicurare che c'è una collocazione, se vogliamo, corretta per il profilo della persona e, diciamo, dall'esperienza delle persone all'interno di ogni corso. A livello di docenti puoi già farci qualche nome delle persone che andranno ad insegnare ai ragazzi o è ancora tutto segreto per adesso? Allora, stiamo per svelare il segreto la settimana prossima. Quindi quello che posso dire è che sul nostro sito, nella pagina dei nostri partner, già si vedono i nostri training partner che sono società di primo ordine in Italia che verranno a fare guest trainer. Mi sembra di capire da tutta la descrizione che comunque sia sempre richiesta una presenza sul posto, quindi una frequenza da parte dello studente. State pensando eventualmente anche per un futuro ad una fruizione per via telematica o per come sono strutturati i corsi? Questo lo vedete un po' impossibile. Allora, sì, la frequenza è obbligatoria. Stiamo studiando insieme al nostro partner Train2Game, che è la scuola più affermata e famosa in Inghilterra. Sicuramente noi offriremo anche la possibilità a chi magari non può venire a Milano o chi magari lavora di accedere anche ai corsi online. Questo però non sostituisce il formal fisico. Ringrazio quindi Jeff per la disponibilità e Digital Bros. Ovviamente vi ricordo che in calcio a questo video trovate anche tutti i riferimenti per chiedere eventualmente informazioni sul corso. Grazie.